Gli uomini non lo scopano più neanche bene, i ragazzi hanno paura pure a scopare, perché le ragazze sono libere, perché sono spaventati gli uomini di vederci che siamo brave. All'università sono più brave le donne, le donne stanno tentando di crescere, stanno crescendo, si stanno ribellando all'imperativo maschile che c'è sempre stato. Gli uomini non stanno crescendo, per cui si sentono molto umiliati e per cui non reggono, non reggono. Parlo di quelli che hanno avuto un certo tipo di educazione, le madri colpevoli, le madri sono colpevoli. Poi ci sono uomini meravigliosi, Franco Decchini era come una donna, per 18 anni ho avuto accanto un uomo meraviglioso, per cui non tutti sono così.